Per il workshop di Infoprogetto ci troviamo a Bolzano, è il 29 maggio 2018 e parliamo di progettazione e riqualificazione, normative, tecniche e uso dei materiali in questa giornata formativa che ha visto la presenza di numerose aziende e oltre 100 progettisti che hanno partecipato ai lavori. Abbiamo anche ascoltato gli interventi scientifici di architetti interessanti e importanti, vediamo. Abbiamo raccontato come sia possibile cercare di impermeabilizzare strutture esistenti, balconi, scale, terrazze, senza demolire l'esistente, arrecando quindi meno danno possibile alla struttura, arrecando meno disturbo possibile all'inquilino, al proprietario, con una soluzione veloce, a basso spessore e con una lunghissima aspettativa di vita nel tempo. Bolzano è una piazza, come d'altro canto mi aspettavo, molto ricettiva, questa tecnologia deriva da un mercato di aria tedesca e qui trova terreno molto fertile grazie al fatto che molti progettisti hanno studiato all'estero, si sono sviluppati all'estero e che comunque questa zona qui è una zona di interscambio fra le due culture. Grazie.